eccoci qui siamo di nuovo in onda con la seconda preparazione della mamma Elena cosa abbiamo preparato qui sembra del merluzzo giusto il merluzzo con patate a novelle e cosa ci avevamo di buono ancora qui succo di pomodoro e peperoni buonissimo quanto tempo di cottura c'è voluto mamma Elena 30 minuti 30 minuti ottimo anche questa mi sembra abbastanza dietetica quindi merluzzo farcito con patate novelle e anche il sugo di pomodoro ho detto bene giusto ottimo grazie